Ok ragazzacci, ragazzacce, ok Si parte subito con il gameplay numero 12 di Dragon Quest Heroes In compagnia del vostro Diablo Dex No, qui non ci andiamo Vediamo un po' se c'è qualche arma nuova o qualche protezione, dai Ok, vediamo un po' Perché, eh vabbè, dai, questo qua, vabbè Se lo meriterebbe, però vediamo un po' qualche protezione prima, va Eh beh ragazzi, eh, 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 eh Vai Compriamo uno scudo E verrà assegnato al Lucius, ragazzi Guardate che bello Guardate che bello Poi ne compriamo un altro, che dite? Eh sì, dai, anche La ragazza qui merita uno scudo nuovo Dai Aurora, su, andiamo, andiamo In grande stile Perfetto, a questo punto, ragazzi Possiamo partire all'avventura del gameplay numero 12 Ah, addirittura, ok Sto leggendo ragazzi, eh, sono presente, tranquilli Io sono pronto, io posso già andare Senza problemi, ok Andiamo Vediamo un po' dov'è come sono pronto ragazzi come sono carico vai andiamo subito andiamo subito che qui il gameplay in 60 fps ragazzi occupa è un po' più lavorato ma non c'è problema perché sono più giga più tempo nel montaggio e più tempo per caricarlo tutto qui ma non c'è Aspettare immediatamente, Tieni, 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 Tieni! Zesca, qui guatliche tutta, Dekas. Eh, tra i giù, Dekas, Come to this place, Nani, che cosa usera? Alla, come te suol Dekas! Tocaえ! Ehi, guardate! D-d-d-dai-joubde, Gasca? Chega chega che non è bene. Grazie a tutti. 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 Guardate che bordello, ragazzi. Vabbè, andiamo di qua. Bisogna iniziare da una direzione, quindi iniziamo di qua e via. Vai, vai così, vai così a grande, vai. In grande stile, in grande stile, ce la faccio ragazzi, è bello. Ho una spada abbastanza buona, è una spada abbastanza brada, ecco, chiamiamola così, va. Però adesso, eh, 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 adesso qui inizia di essere un problema. Perché qui mi attaccano, eh, da che parte devo andare, da che parte devo andare, ragazzi? Vado di là? Eh, 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 guardate qui, guardate qui, guardate qui, guardate qui, guardate qui, guardate qui, vi sfondo tutti, eh, vi sfondo tutti, non lascio nessuno al caso, eh. Ok, ok, distruggiamoli, che bordello, ragazzi, che bordello. Dai, uhlala, grande. Eh, sono potenziato, ragazzi, sono potenziato e... Ora iniziano ad essere cavoli loro, eh sì, sono cavoli loro. Ok, ok, allora, da che parte vado ora? Da che parte andiamo, allora? Che casino, ragazzi, è un casino, voi no... Non ci fate caso, ci penso io, ci penso a brado, ok? Voi, tranquilli. Eh, no, no, un altro gigante qui. Se ho visto bene un altro gigante. Eh, lo sapevo io. Ma stai tranquillo. Non fai paura neanche alle formiche. Eh, però è resistente, ragazzi. Eh, è resistente, però ora... Ha gli attacchi pesanti di brado, non so se... Può resistere più di tanto, eh, il ragazzo, eh, ve lo dico, è la verità, eh. Andiamo, andiamo, dai, dai, ce la posso fare. Ce la posso fare, sì, ragazzi. Eh, sì, eh, sì. A questo punto, ragazzi, io farei un bel giretto da questa parte, vedete? Per poi aprire questo forziere, eh, posso magari aprirlo. Ok. Vai. Ma dove vai con lo scudo, eh? Mi dici dove vai? Eh, non vai da nessuna parte. Mi dispiace per te, ma... Qui c'è un brado che non ti lascia respirare, ok? Ottimo, così, ragazzi. Ecco, forse siamo sulla buona strada, eh. Ok, perfetto. Grande bradone, sì, così, così. Eh, beh, ragazzi. Sì, me la sto cavando bene, me la sto cavando bene. Non lamentatevi perché... Uh, la, la. L'ultima orda. Eh, sì, vai. Allora. Ora vi scaglio contro anch'io uno della vostra specie, così mi dà una mano. E vi asfalteranno, ok? Ai, ai, ai. Vabbè, facciamo così, va. Facciamo così. Ah, ok. Lui si è parato. Giustamente. Grande, grande così il brado, sì, sì. Ci piaci, ci piaci. Alla grande, alla grande, sì. È andato, ragazzi, che dite? Eh, io dico di sì, eh. Io dico che gli abbiamo fatto il culo, poi... Il resto sono dettagli, ok? Eh, ma ancora. Ah, si è aggiunto anche lui. Eh, beh. Questo qui è un balordo, ragazzi. Io ve lo dico, non è facile da... Da gestire, eh. Ok, ok. Ce la farò, ragazzi. Ce la farò, non lo so, ma vedremo. Uh, là, là, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, vai. Abbattuto, abbattuto. Sì, ma quanto siamo di gameplay? Eh, tra poco dobbiamo interrompere qui, che... A 60 fps, ragazzi. Vabbè, è finito, è finito il livello. Ok, ottimo. Grande, Bradone. Grande così, gra... Vabbè, ragazzi, sono... Sono un campione, dai. Sono un campione di Dragon Quest, vai. Grazie per avermi dato una mano. Tranquillo, mi pagherai dopo. Mi pagherai perché mi pagherai. Eh, sì. Ok, vai, andiamo, andiamo. Andiamo, salvataggio, ragazzi. Vediamo se c'è un video, qualcosa, oppure no. Pare di no, va bene. Va bene così. Mi piace questa musichetta, ragazzi. Questa musichetta è stupenda. Non sono salito di livello, quindi... Ok, ragazzi, perfetto. Allora, questo gameplay di Dragon Quest Heroes si conclude qui con il vostro DiabloTex, il gameplay numero 12. Ci sentiremo con i prossimi gameplay. Un saluto a tutti, banditos. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.